Allora partiamo con una voce fuori campo perché già inquadrarlo e basta vuol dire tante cose se dovessimo fare una classifica per costume di dubbio gusto 2017 questo ragazzo sarebbe sicuramente nella lista Buonasera come ti chiami? Stefano Buonasera di nuovo a tutti i Master Nick per il convento di Lonato Sabato Dinner and Dance Dicevo che se dovessimo fare una classifica del costume di dubbio gusto 2017 tu saresti nella lista sicuro Descrivici come sei vestito Beh sono vestito leggermente da bel ragazzo Quello sempre bel ragazzo Cioè tu vuoi dirmi che nel 2017 i bel ragazzi si vestono così? Ok quindi allora attenzione Stefano giusto? Perché Stefano ci sta dando consigli di moda per l'estate del 2017 Cioè non affannatevi a andare sulle piste di moda e andare a vedere gli showroom e tutte quelle esposizioni lì Pensate a Stefano Per l'estate del 2017 E' importante Seguite i consigli di moda di Stefano Dai due consigli di moda così veloci veloci Beh va bene dai due consigli di moda E no devi darli tu tu sei il guru G strappato e maglietta nera sempre Ok G strappato e maglietta nera E' total black Bagnata mi dicono Sì sì Maglietta sempre Sempre bagnata E' importante E' importante va bene Di dove sei? Da Soave Soave ok Quando ti sposi con chi? Eh? Quando ti sposi con chi? Due settembre con Federica Ok allora le mandiamo un saluto Sicuramente avrà trovato un uomo che di estetica e di moda se ne intende E questo è importante Ciao Ciao Ciao